Ciao, sono Filippo, proprietario di Original Gusto Pit. Original nasce nel 2016 con la prima pizzeria, quella di Via Flaminia. È un progetto che poi è andato a espandersi fino a contare ben 4 punti vendita sulla città di Pesaro. Uno dei nostri obiettivi è quello che il cliente possa trovare sempre un prodotto fresco e di ottima qualità, sia ad asporto sia con le consegne a domicilio. Negli anni Original è diventata un'attività sempre più grande e complessa, contando ben 40 collaboratori. Siamo una pizzeria da asporto, il che vuol dire che principalmente il 90% delle nostre vendite viene attraverso il cliente, che si reca al locale per poi prendere il prodotto e consumarlo dove più preferisce. Oltre al servizio di asporto, fiamo il servizio di consegne a domicilio. Questo ci permette di accontentare sempre più clienti e raggiungere tutte le parti della città. Abbiamo recentemente digitalizzato la nostra azienda attraverso Zucchetti e il loro software ZMenu che ci permette di organizzare e gestire il tutto al meglio. Il software ZMenu di Zucchetti ci permette di gestire i 4 punti vendita in maniera centralizzata, di organizzare le comande, gestire le consegne a domicilio, fidelizzare i clienti al meglio e tenere monitorato consumi e incassi. In ogni punto vendita è presente un punto cassa che ci permette di gestire sia la vendita al banco, sia l'asporto per la sera o le consegne a domicilio. All'interno del gestionale è presente il modulo asporto e consegne che permette di gestire la capacità produttiva del forno, di organizzare le ordinazioni in fascia oraria. Un'altra funzione importante è quella che il gestionale riconosce le chiamate in entrata. Così da andare a ripescare la nanografica del cliente, ZetaMenu si è adattato perfettamente alle nostre esigenze, permettendoci di concentrarci su ciò che conta veramente, offrire un prodotto sempre gustoso e puntuale ai nostri clienti. Zucchetti è per noi un partner affidabile, che è stato in grado di realizzare per noi un progetto su misura, che ci permette di far crescere la nostra azienda.